Piccoli passi e fatti concreti, con questa filosofia il sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo si è approcciato al tema Porto fin dal suo insediamento e con lo stesso stile, lontano dalle luci della ribalta, oggi ha affidato ad un comunicato stampa una delle notizie più importanti di questa avvincente telenovela che abbiamo preferito ascoltare dalla sua viva voce. È andata odierna, c'è stata una riunione con la Capitaneria di Porto di Vipo Valenzi, abbiamo firmato io e la Capitaneria di Porto la consegna di tutto il lungomare di Diamante che viene consegnato definitivamente sulla base dell'articolo 34 del Coglio di Vinalizzazione viene consegnato nella piena disponibilità del Comune, oltre che la passeggiata e il calpestio viene dato a noi vengono dati tutti i locali che sono sotto la passeggiata, che sono prospicenti al Porto. Locali che dovranno essere ristrutturati con fondi regionali ma che passeranno da un mutuo a carico del Comune di poco più di un milione di euro da confermare nel prossimo bilancio preventivo. Locali che, come stabilito dal Consiglio Comunale, saranno destinati ad attività commerciali di iniziativa giovanile. Situazione che al momento, salvo colpi di scena, scongiurerebbe un disinteresse della ditta a completare i lavori visto che la stessa è stata coinvolta direttamente nel percorso che ha portato alle determinazioni degli ultimi mesi. Adesso siamo alla parte conclusiva di questo percorso, sempre che il capo del Dipartimento dei lavori pubblici alla regione, l'Ignere Pallaria, non trova ostacoli che in questo momento non so quali possano essere. Facciamo i piccoli passi, uno per volta e poi vedremo come si evolve la vicenda. Io non ho motivi di pensare che la ditta non sia interessata. Io ritengo che se i passi saranno completati la ditta dovrebbe iniziare i lavori. Io lo spero, però ripeto, siccome sono per mia natura molto, ma molto ricauto nel fare delle previsioni, preferisco muovermi con dati di fatto e non con ipotesi.